Aspettate, non riesco a salire! Eccomi! Ah, grazie! Quegli umani sono sbucati così nel nulla, cioè sennò subito... Ah, arrivate subito di corsa! Meno male siamo scappati in tempo! Comunque, Francesca, devi trovare subito una soluzione! Hai visto cosa è successo di nuovo col suo singhiozzo? Già! Sì, ragazzi, infatti sono qui nell'argomento, dovrei esserci quasi! Oh, ma l'hai già detto prima! Ma sì, ma stavolta è vero! Oh, ecco qui! Ecco, ragazzi, ho trovato la soluzione! E' un po'... Non ci importa se è un po' cadele, barbosa, noiosa, cattiva o ingiusta! Io voglio curare! Cioè, guarire! Va bene! E qua è il posto giusto perché c'è quello! Oh no! Non dimmi che... Purtroppo... Sì, qui dice... Tu ti fidi molto dei tuoi amici e così... Ti dovrai buttare da lì! Cosa? Perché? Io te l'ho appena spiegato! Oh, ma quel discorso mi è sembrato dura lungo un'ora! In effetti ha senso! Se tu ti fidi del tuo singhiotto sarebbe... Va bene! Daaaah! Wow, ha funzionato! Mi fido del mio singhiotto! No? Non lo so! E se mi teletrasportaste tipo... Ok? Magari mi salva qui ma se mi trasporto sul tetto e cado giù! Dall'altra casa! Dall'altra parte del mondo! Magari fa così, no? Daaaah! Ah! Daaaah! Insomma... Questa singhiozza mi potrebbe teletrasportare ovunque! E poi non hai detto che io singhiozzi in quel momento! Magari non singhiozzi e mi sfracello là in fondo! E se... Se singhiozzassi tipo qui? Non proprio qua in fondo che è troppo in giù! Mi spiace ma è detto... Ah! Come faccio a sapere che... Se singhiozzare proprio in quel secondo? Allora... È solo strategia di pensare! Tu devi volerlo! Devi proprio volerlo! Tu! Forte! Ma come? Da qui! In fondo al cuore! O meglio... Il tuo cuore! Che batte molto molto forte! Altrimenti... Fischie! Cioè... Ti sfracellerai là! Ma e se prendessimo precauzioni? In che senso? Tipo... Io potrei andare là! E se lei non singhiozza io te le trasporto su! È vero! Questo è molto meglio del tuo! Segui il cuore! È profondo! Ma non è una bagianata! È vero! Insomma... Magari stai per singhiozzare! E così... Poi anche se non fosse... Se lei si teletrasporta... Il rimedio non funzionerà! Ma è meglio di sfracellarmi al suolo! Ha ragione! Sogno a tentare! Già! E va bene! E se mi sfracello! Tranquilla! E ti posso teletrasportare anche da qui! Io sono comunque contraria! Fidati dell'istinto! Fidati del mio teletrasporto! No! Sì! Dai! Dobbiamo uscirne! Sì! Insieme! Per la testa! Ehm... Non... Oh! Buttati! Larry! 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 Ma sei pazzo! E se non era pronta? Ma lei non le hai dato il tempo di pensare! Qui non finirà bene! Ti ricordo che è tua sorella! Sì! In effetti non doveva essere così improvvisato! Ma vabbè! Meglio di niente! Cosa? Vado a vedere come se la sta cavando! Ehi! Jenny! Tutto bene là? Aaaaaah! Segui il cuore! Segui l'istinto! Se non fai così ti sfracellerai! Ma mamma non c'è! Sì! Ma non è detto! Aaaaaah! Fidati della mente! Fidati del cuore! Tu lo vuoi! Devi teletrasportarti! Altrimenti ti sfracellerai! Fidati! 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 Io mi voglio teletrasportare! Potere del... No! Sì! Aaaaaah! Ma se teletrasportata! Stavo per dire la formula! Eh sì! Ha seguito la mia formula! Non era una buffanata! Anzi era molto molto seria! Però dove si teletrasporterà? Ce l'ho fatta! Ce l'ho proprio fatta! Pensavo di sfracellarmi! Ce ne ho... Aaaaaah! Aaaaaah! Sto bene! Beh è sempre stato... È stato sempre meglio di... Sfracellarmi là! E vai! Aspetta! Ma ora che ci penso? Perché mi hai fatto fare questa cosa? Già! Prima perché mentre voi siete a mangiare festeggiando... Che in questa cosa... Ecco... In molti casi non è curabile! Cosa? Allora ho trovato una soluzione alternativa! Ti ho insegnato... A comandarlo! Cosa? Tu lo riusci a controllare! Quando vuoi ti teletrasporti! Basta pensare al posto in cui vuoi andare e ci vai! Davvero! Bene! Vedo che l'hai imparato! Visto ragazzi! Io non sono tonta! Ci vuole un po' di tempo! Oh ma funziona! Messaggio da Jenny! Cosa? Mi ha detto come... Dove si è teletrasportata! Dove? Ha detto che ha sempre desiderato... Desiderato... Vederne uno e non l'ha fatto! Dov'è? In Peru a vedere gli elefanti! Cosa? Non è nellozando! Scriviti e metti like! Così sarai aggiornato sulle nostre puntate! Scrivi nei commenti cosa ne pensi! Già! Do 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 do! Hupp deph! Grazie a tutti.